A seguito del successo dei mesi precedenti, sabato 19 ottobre, è prevista un'apertura straordinaria della Villa Romana della Foce, nota anche come Villa Matuzia. Dalle 15.30 alle 18 alcuni volontari della Delegazione Fai d'Imperia accoglieranno i visitatori alla Villa Romana, conclusione del ciclo di aperture estive 2019. Villa Matuzia è un insigne sito archeologico che presenta i resti di una villa signorile di epoca romana fornita di impianto termale e costruita tra il I e II secolo d.C. in riva al mare, un luogo scelto proprio per la sua bellezza. I resti della Villa Romana della Foce si trovano in via San Rocco, lungo la pista ciclabile, a ridosso del muro sud del cimitero monumentale della Foce. Sono visibili 12 ambienti, l'insieme del bagno della villa destinato all'uso esclusivo del proprietario, gli ambienti di riposo affacciati sullo spazio aperto antistante, forse trattato a giardino, e ancora un vano di servizio connesso al funzionamento delle terme, il cortile scoperto e la latrina. In alcuni ambienti del bagno si conservano vari elementi dell'impianto di riscaldamento. I reperti ceramici, inoltre, ci testimoniano della continuità di uso di questo edificio sino al V e VI secolo d.C. L'apertura con accoglienza è resa possibile dalla collaborazione tra delegazione del FAI, comune di Sanremo e soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio.